A frantumato il record precedente di Thomas, all'Artourner, che nel 2012 è arrivato a Calais in 11 ore e 4 minuti, lui, il lecchese Andrea Oriana, 47 anni, già campione dei 200 delfino, 15 titoli ridati, olimpionico ad Atlanta 96, ha attraversato la manica nuoto in 10 ore e 19 minuti, aggiudicandosi il record italiano e portandosi a casa un successo che inseguiva da 3 anni. Due anni fa era stato costretto a rinunciare a 4 km dall'arrivo, lo scorso anno le condizioni del mare proibitive non gli avevano nemmeno consentito di partire. Questa volta ce l'ha fatta. Partito da Dover con il buio, poco dopo mezzogiorno, ha raggiunto la Francia. 38 km di bracciate e sacrifici, un riscatto per lui, qualche anno fa coinvolto in un'inchiesta sul doping, da cui era uscito completamente pulito, archiviata la sua posizione dal giudice delle indagini preliminari, su richiesta dello stesso PM, che però gli aveva impedito di tornare a competere ad alti livelli. Quest'estate non ha mai mollato, l'attraversata dall'Ecco a Colico, prima diurna, poi notturna, l'allenamento nei laghi alpini per abituarsi alle temperature più rigide, ora il successo, settimo italiano in 150 anni, tra questi il Caimano dell'Ario e Leo Callone, ad attraversare la manica. Le ultime bracciate sono state le più difficili, vedevo la costa ma non arrivava mai, ce l'ho fatta, questa volta sono passata in cassa e ho riscosso le sue parole appena ha toccato il suolo francese.